allora ragazzi eccoci qua al nostro spot con una meliga un po di taglia grossa un amo molto grosso e speriamo di riuscire a farvi vedere qualche partenza niente siamo qua ad aspettare peschiamo a fondo perché col cambio di luce verso quest'ora è meglio stare sul fondo con questi predatori canna feeder iniziamo a valutare la canna allora come vedete una dava una dava protus feeders con con mulinello shimano non è proprio una copiata diciamo abbiamo fatto la coppia della concorrenza ma questa canna con azione 30 30 grammi 90 grammi diciamo che ha un buon rapporto e che altro dire carbonio ad alto modulo è una canna che costa sulle 80 euro ma che online potete trovarla tranquillamente anche a 30 anelli rinforzati insomma ottima fattura insomma mamma d'aiva è sempre mamma d'aiva con sughero finale e questo mulinello un pochettino sovra rimonta sotto dimensionato questo questo mulinello un sedona 2000 f però vorrei sentire il pesce in canna quindi speriamo arrivino e speriamo di riuscire a farvi vedere qualche partenza e niente speriamo dai